Anche la retina Francesca Pagliaia, assieme alla sua fedele compagna Ellison, tra gli angeli delle macerie, che ad un anno dal crollo del ponte Morandi hanno ricevuto un importante riconoscimento. Il nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco della Toscana ha infatti ricevuto a San Rocco di Camogli, in provincia di Genova, il premio internazionale Fedeltà del Cane, una delle manifestazioni dedicate agli amici dell'uomo più importanti a livello nazionale. Ellison, un labrador di colore cioccolato dell'unità cinofila dei Vigili del Fuoco di Arezzo, era partita assieme a Francesca per Genova subito dopo il drammatico crollo, costato la vita a 43 persone, tra cui anche i due giovanissimi Aretini, Stella e Carlos. Assieme alle altre unità cinofila avevano operato tra le macerie del ponte Morandi. L'idea del premio Fedeltà del Cane nacque nel 1962 e da allora, tutti gli anni, il 16 agosto, giorno di San Rocco, vengono assegnati i premi Fedeltà. Dal 1966 vengono assegnate anche i premi Bontà conferiti a quelle persone che si sono distinte per rilevanti atti di generosità verso i cani. Quest'anno, ad un anno dalla tragedia del ponte Morandi, gli organizzatori della manifestazione hanno voluto dare un giusto riconoscimento anche ai cani che si sono prodigati e distinti nelle ricerche in questo scenario emergenziale.